Dalla collaborazione del nostro Ateneo ed in particolar modo dell'Orto Botanico dell'Università di Cagliari con il Comune di Ussaramanna nasce l'idea di organizzare in forma congiunta il 35esimo Festival delle Erbe Spontanee della Sardegna al quale sono certamente associate anche altre attività, non semplicemente a corollario, ma che in questo caso costituiscono parte fondante degli eventi organizzati tra il 6 e il 7 aprile, in particolar modo il convegno e gli stati generali sulla biodiversità e l'agrobiodiversità in Sardegna. Oltre a questo sono previste tutta una serie di attività più di carattere divulgativo ed informativo, ma specificamente educative e ambientali e quindi una mostra sulle erbe spontanee e tanti laboratori che ci consentiranno di mettere in luce le attività svolte dal nostro Ateneo e in particolar modo quello che insieme con gli enti e le istituzioni a livello locale si vuole cercare di fare per la biodiversità della nostra isola.